Se quando penso ad un settore il mercato pensa alle mie aziende, vuol dire che sono diventato un punto di riferimento. Questo vale anche per la piccola e media impresa, vale anche per la nicchia di mercato. È evidente che questo obiettivo qua non lo posso raggiungere dall'oggi al domani. È un percorso, è un percorso che dura anni. Però quello al quale noi dobbiamo avere veramente una chiarezza totale è che oggi, soprattutto nel contesto di oggi, cioè il contesto di oggi è un contesto dove c'è veramente un'offerta infinita. Allora all'interno di questa offerta infinita, se non voglio restare uno dei tanti, con il problema che se sono uno dei tanti sarò sempre costantemente confrontato solo ed esclusivamente per questo benedetto prezzo, allora se io non voglio andare a scontrarmi sempre su questa logica qui del prezzo, devo in qualche modo elevarmi e diventare il punto di riferimento.